Bene, allora dopo aver replicato la prima unità abitativa in un gruppo di tre unità procediamo per completare la nostra esercitazione. Ora se ricordate questo complesso di casa schiera è composto da sei unità abitative in tutto di cui appunto tre sono queste che vediamo e altre tre poste successivamente però ad una quota un metro più alta. Ok, allora adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo predisporre tutto per fare questa ulteriore copia o duplicazione. Allora ricordo a tutti che è fondamentale che la rappresentazione delle tre unità sia il più completa possibile quindi non ci siano errori perché chiaramente adesso la andremo a duplicare se ci accorgeremo di un errore lo dovremo poi modificare due volte quindi è bene prima di procedere di controllare un attimo da tutte le viste possibili se ci sono degli errori o delle imprecisioni in modo da poterle correggere e trovarle già pronte per la duplicazione. Fatta questa operazione la prima cosa che dobbiamo fare è copiare le nostre tre case adesso le copiamo staccate dalle altre in modo da poterci lavorare per il metro di dislivello e poi dopo le posizioneremo nel punto giusto. Occhio anche ad un'altra cosa vedete in questa vista sono presenti i marker degli alzati quindi dei prospetti che sono posizionati questi sono quelli di default di Archicad è chiaro che adesso se andremo a copiare queste tre case a sinistra questo marker non andrà più bene anche questi altri saranno troppo corti per cui dopo li modificheremo. Allora la prima cosa che facciamo selezioniamo le nostre case occhio a mettere il metodo di selezione tutti i piani selezioniamo tutto in questo caso abbiamo selezionato anche il marker della sezione esistente quindi lo troveremo duplicato poi eventualmente lo duplicheremo e poi andiamo sul comando edita muovi 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 una copia scusate muovi una copia quindi prendiamo e la spostiamo diciamo così in un altro punto qualsiasi bene adesso andiamo nel 3D vedremo che abbiamo questo nuovo gruppo di case spostate non collegate all'altra ritorniamo alla nostra selezione adesso quello che dobbiamo fare è aumentare tutto questo gruppo di case di un metro in quota e vedremo poi che invece il piano interrato lo dovremo riposizionare alla quota corrente perché il piano dei garage è chiaramente tutto allo stesso livello allora dallo stesso menu edita sul menu muovi esiste anche l'opzione eleva allora l'opzione eleva ci permette di elevare rispetto al piano ospite dell'elevazione quindi del piano zero tutto quello che abbiamo selezionato della misura che noi decidiamo in questo caso di un metro dobbiamo fare una una considerazione però è chiaro che in questo modo noi eleviamo di un metro tutti i muri, pilastri, solai, grigli, oggetti qualsiasi altra cosa abbiamo fatto ma non chiaramente le porte e le finestre perché quelle hanno un loro parapetto adesso lo vedremo un attimo per prima cosa intanto eleviamo tutto quello che abbiamo selezionato di un metro eccolo qua adesso dalla vista 3D si vede relativamente adesso si vedrà ecco che sono cresciute di un metro adesso ecco quello che dicevo è questo vedete le porte e le finestre sono rimaste così come erano quindi saranno un pochino spostate di un metro questo per quale motivo vediamo un attimo se noi andiamo a selezionare che ne so una porta questa porta qui e andiamo a vedere le impostazioni della porta questa porta aveva impostato un davanzale di zero chiaramente il davanzale non viene modificato in quanto oggetto cioè il davanzale rimane quello che è stato impostato per cui in questo caso questo davanzale non dovrà essere di zero ma dovrà essere di un metro che poi sarà un metro rispetto allo zero che chiaramente poi sarà un davanzale che non esiste nel senso che poi dopo essendo anche il solaio rialzato di un metro rimarrà al livello del solaio l'altezza della porta è impostata sopra è rimasta corretta per cui non ci sarebbero non ci sarà nessun problema infatti eccolo qui vedete questa porta adesso è stata diciamo alzata alla quota giusta quindi questo lavoro lo dovremo andare a fare per tutti quanti le porte e le finestre e quando avremo fatto questa operazione avremo messo bene tutto accoppieremo le due case dobbiamo fare per un attimo un ragionamento sul piano interrato il piano interrato per capirci possiamo anche fare una sezione qui la facciamo una sezione longitudinale quindi qui lungo diciamo la rampa dei garage adesso questo secondo gruppo di case non è perfettamente allineato ma non è un problema e andiamo a vedere la sezione 3 la sezione 3 ci renderemo conto che avremo praticamente anche per i garage due livelli di quota vedete questo è le case che sono tutte più alte questo solaio dei garage è stato chiaramente rialzato di un metro e questo non va bene perché chiaramente i garage saranno tutti quanti alla stessa quota quindi che cosa dovremmo fare dovremmo riportare questo solaio a quota 0 lo stesso tutte le murature aumentare farle partire dalla quota 0 invece le porte le finestre e quant'altro c'è nel piano interrato rimarrà così invariato e in questo qui andrà bene allora come facciamo ci posizioniamo direttamente sul piano interrato eccolo qua questo è il piano interrato adesso possiamo anche selezionare questi solai per capirci andando a vedere le proprietà di questo solaio vedremo che sta a meno 2 rispetto alla quota allo 0 di progetto lo riportiamo a meno 3 se vi ricordate era 3 metri l'altezza era 2,70 più 30 del solaio qui chiaramente non vediamo nulla però se andiamo sul 3D vedremo di come eccolo qua vedete il solaio è ritornato al livello meno 3 anche in sezione questa linea eccola qua si sposterà e questo va bene porte e finestre sono tutte posizionali bene dobbiamo adesso lavorare sui muri ritorniamo al piano interrato in questo caso non possiamo selezionare insieme tutti i muri perché selezionando tutti i muri selezioneremo pure quelli che vanno bene diciamo così per cui con un po' di pazienza li selezioniamo con il mouse tutti occhio che vedete ecco quando si evidenziano significa che abbiamo diciamo così selezionato bene l'oggetto eccolo qua pure questi muri interni questo muro qua questo 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 ecco adesso ho sbagliato perché ho selezionato il solaio quindi lo andiamo a togliere eccolo qua selezioniamo questo muro questo muro e quest'altro muro bene ho selezionato tutti i muri non è vero perché manca questo adesso se vado sulle proprietà del muro vedrete che avremo una sporgenza superiore di un metro che è quella che a noi serve perché il solaio superiore è stato un metro più alto però c'è questa misura qui di un metro oppure c'è lo zero di progetto che è a meno due quindi indifferentemente possiamo o mettere tre qui e questo torna a zero oppure avremo potuto mettere zero qui e questo sarebbe ritornato a tre in questo modo tutti i muri di questo piano saranno alti tra il piano e il piano ospite quindi tre metri più un metro per arrivare al solaio superiore clicchiamo su ok e andiamo a vedere nel 3D se questo avviene eccolo qua vedete questo va bene nel senso che in questo modo noi avremo che il piano interrato eccolo qua che si aggiorna sta allo stesso livello è chiaro che questi tre garage o queste tre taverne avranno un'altezza superiore quindi dovremmo anche modificare la scala e invece tutti gli altri piani sono sfalsati di un metro adesso quello che dobbiamo fare è andare a modificare porte e finestre di ogni piano allora anche questo lo facciamo con un po' di pazienza ci posizioniamo sul piano terra ci posizioniamo sul piano terra e ok andiamo a selezionare le finestre ci dobbiamo ecco prima finestra anche qui ho tenuto premuto il tasto shift facciamo attenzione a selezionarle tutte conviene selezionare tutte le stesse tipologie di finestre nel senso queste sono tutte porte finestre che avevano un davanzale pari originalmente a zero adesso questo davanzale è rimasto chiaramente zero lo dobbiamo portare pari a uno ecco questo l'avremmo potuto fare anche per le altre quindi uno due tre quattro e lo facciamo su questa e su questa andiamo qui e gli diciamo che il nostro davanzale deve essere di un metro ricordo a tutti che non è nella realtà non è un davanzale di un metro noi gli stiamo dicendo che la finestra o la porta che sia inizia a un metro rispetto alla linea di riferimento in questo caso anche il solaio sta a un metro rispetto alla linea di riferimento per cui è tutto quanto diciamo così rispettato adesso prendiamo anche queste finestre qui le selezioniamo a parte andiamo qui queste finestre avevano già un parapetto di un metro questo parapetto sarà un metro più un metro cioè due e poi andiamo a selezionare anche le porte due e tre anche queste porte dovranno avere un davanzale di un metro che già c'è questo perché ne avevamo modificata una se vi ricordate ok andiamo a vedere adesso in 3D se questo è avvenuto ecco non ci ha modificato le due porte semplicemente perché avendo fatto la selezione multipla una porta già era alzata di un metro le possiamo tranquillamente selezionare nel 3D andiamo sul comando porta qui ci comparirà il davanzale pari a 0 mettiamo il davanzale pari a 1 e queste porte eccole qua saranno posizionate correttamente ritorniamo al piano terra perché mancano le porte interne quindi quindi una e una due tre quattro cinque sei sette otto e nove andiamo sul comando porta e gli diciamo che anche queste porte devono avere un davanzale pari a un metro ok e quindi il piano terra lo abbiamo sistemato a meno delle scale di cui parleremo dopo andiamo a fare la stessa operazione nel piano primo poi vediamo anche questo discorso della visualizzazione allora piano primo ugualmente selezioniamo prima le finestre allora ricominciamo da capo prima finestra premuto il tasto shift seconda finestra terza finestra 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 porta finestra in realtà porta finestra che abbiamo sbagliato ricliccando sopra si deseleziona quello che avevamo selezionato erroneamente eccole qua l'abbiamo selezionata mi sembra tutte ok andiamo sul comando finestra impostazioni e gli diamo un davanzare pari a un metro ok andiamo a farlo pure per le finestre più piccole una due e tre queste avevano già il davanzare di un metro lo mettiamo di due l'abbiamo separata e l'abbiamo selezionata separatamente proprio per questo motivo perché se poi mischiamo delle tipologie come avevamo fatto per le porte sotto poi c'è qualche problema quindi mettiamo due benissimo adesso andiamo a fare la stessa operazione per tutte le porte una due tre quattro cinque uno due tre vedete quando si colora la porta significa che posso cliccare uno due tre quattro e cinque andiamo a selezionare tutte le porte impostazioni della porta da avanzare un metro dopo alla fine faremo anche una sezione trasversale interna per vedere se tutto questo è stato fatto bene a questo punto se ritorniamo sul 3D dovremo avere il nostro edificio corretto eccolo qua possiamo ruotare intorno se non abbiamo fatto errori ecco il nostro edificio sta messo correttamente vedete qui c'è un problema con questo muro per cui io semplicemente lo vado a selezionare probabilmente non l'avevo selezionato prima e gli ritirò che partirà che sotto avrà uno spessore di zero eccolo qua bisogna sempre controllare perché può essere sempre sfuggito qualcosa da quest'altra parte pure quindi probabilmente allora andiamo a verificare il piano interrato probabilmente tutti questi muri uno e due vediamo se è vero hanno eccolo qui hanno tutti quanti l'altezza di un metro la riportiamo a zero andiamo a controllare anche questi laterali e anche questo lo portiamo a zero questo qui in fondo lo dovremmo aver già fatto in 3D andiamo a verificare e infatti in 3D già stava a zero torniamo nella nostra vista 3D e questo buco diciamo così dovrebbe sparire e infatti sparisce bene arrivati a questo punto in realtà noi dovremmo aver diciamo così predisposto il grosso diciamo così per duplicare le nostre case allora conviene per la copia visto che c'è stato anche qualche problema in classe conviene posizionarsi sul piano terra per quale motivo perché nel piano terra noi abbiamo questo pilastro che ci può permettere di agganciare questo punto iniziale e farlo coincidere con questo punto finale ok allora che cosa che cosa faremo andiamo a selezionare come sempre tutti i piani edita muovi questa volta non muoveremo una copia ma muoveremo tutto per cui andiamo qui ci posizioniamo su questo spigolo e gli andiamo a dire che questo spigolo dovrà coincidere con questo lasciamo lavorare un attimo e eccolo qua la duplicazione è stata effettuata adesso se andiamo in 3D gli diamo tempo di rielaborare il disegno eccolo qua vedete noi stiamo nel retro possiamo ruotare ecco qua e vedete che diciamo così è stato correttamente duplicato qui abbiamo di fatto uno spazio da riempire il piano dei garage già lo possiamo vedere da qui vedete già è diciamo così rappresentato correttamente ma noi avevamo anche la sezione diamogli il tempo di eccola qua e questa sezione è corretta adesso dobbiamo fare qualche ritocco per la duplicazione e poi aggiustare le visualizzazioni allora piano terra allora prima cosa che che dobbiamo stabilire vedete le sezioni abbiamo detto scusate le piante sono delle sezioni orizzontali quindi c'è un piano di taglio che abbiamo detto normalmente un pochino più di un metro adesso è chiaro che noi avendo modificato l'altezza di questa di questo gruppo di tre case pur lasciando lo zero di progetto dove era praticamente succede che il piano di taglio non è più posizionato correttamente per questi altri tre gruppi di case allora conviene alzarlo allora come si fa nel menu documento c'è piano di taglio pianta eccolo qua vedete qui si capisce da questo disegno vedete il piano di taglio attualmente sta a un metro e dieci che è corretto per il primo gruppo delle tre case ma non va bene per l'altro gruppo delle altre tre allora conviene qui scrivere due e dieci tanto nel primo gruppo non succede nulla quindi facciamo rielaborare il disegno e alcune cose già sono andate a posto poi c'è anche un altro problema che è la visualizzazione dei muri allora che cosa conviene fare adesso vi faccio vedere se noi andiamo sul piano interrato eccolo qui noi adesso abbiamo tutta una serie di muri allora selezioniamo i muri facciamo il comando edita seleziona tutti i muri quando andiamo alle impostazioni del muro vedete c'è un'opzione di visualizzazione in pianta che ci chiede in quale piano vuoi che questi muri si vedano noi qui abbiamo messo tutti i piani relativi ma noi possiamo anche dire solo solo sul piano ospite adesso in realtà in questo caso non cambia nulla ma nel caso del piano terra cambia per quale motivo perché noi nel piano terra nel piano primo soprattutto ecco qua vedete vediamo anche dei muri che sono dei muri questi qui che sono i muri del piano sottostante allora conviene che questa operazione la facciamo per tutti i piani andiamo nel piano terra comando muro scusate muro eccolo qua edita seleziona tutti i muri andiamo sulle opzioni del muro e gli diciamo che invece che su tutti i piani lo deve mostrare solo sul piano ospite la stessa cosa la facciamo al piano primo che è quello che ci interessa di più vedete già adesso non vediamo più i muri del piano sotto perché così era stato fatto comunque per diciamo così pulizia del disegno lo facciamo anche qui quindi andiamo sul comando muro edita seleziona tutti i muri impostazioni del muro e gli diciamo visualizzalo solo sul piano ospite ok in questo modo abbiamo diciamo così fatto quello che dovevamo fare adesso per completare la nostra opera dobbiamo andare a vedere che succede in alcuni elementi che sono duplicati ok e poi dopo costruire anche un muro di chiusura qui allora questo pilastro è doppio possiamo sempre provare a vedere che succede se noi lo andiamo a selezionare lo cancelliamo vedete rimane questo pilastro diciamo così monco allora che conviene fare conviene andare a cancellare quello superiore per cui adesso lo dobbiamo prendere un attimo di pazienza allora conviene prenderlo dal piano terra ecco qua qui anche abbiamo due solai sovrapposti andiamo a selezionare questo pilastro e vediamo che quote ha questo pilastro è quello superiore e quindi questo va bene possiamo anche fare una cosa forse la cosa più corretta da fare andiamo sul 3D questo lo andiamo questo pilastro adesso l'abbiamo preso bene se no quel pilastro lo potevamo cancellare e modificare l'altro ok adesso proviamo a andare a fare questo muretto qui lo possiamo fare anche in 3D prendiamo lo strumento muro gli diamo un'impostazione che non è 020 qui è rimasta memorizzata lo spessore dei muretti sopra che era dal 020 ma quindi dal 030 generico strutturale e gli diciamo mi devi fare un muro che parte da qui eccolo qua e arriva fino qua ok ecco qua e abbiamo chiuso questo spazio e la stessa cosa la dobbiamo fare dietro mi sembra per cui andiamo a ruotare il nostro fantastico progetto no dietro non c'è nessun problema perché c'era un muro già di separazione perché siamo fuori dalla corsia di garage adesso andiamo a vedere che succede ecco anche qui noi abbiamo un problema nel senso che ci sono dei muri che si raddoppiano allora che facciamo andiamo al piano interrato piano interrato e andiamo a vedere che succede questo muro vedete si sovrappone all'altro per cui lo prendiamo e lo andiamo a portare qui vediamo anche il discorso dei solai quindi questo solaio lo prendiamo e lo andiamo a portare qua andiamo a vedere in 3D e anche in sezione che è successo eccolo qua vedete le intersezioni sembrano tutte corrette andiamo in 3D vediamo il tempo ecco anche nel 3D mi sembra che va tutto bene vediamo che succede qui ecco qui abbiamo questo muro che possiamo modificare anche qui dobbiamo fare attenzione perché riportandolo dietro avremo sicuramente un po' dopo un buco in questo punto qui per cui in realtà lo possiamo anche lasciare in questo modo oppure dobbiamo prendere il muro questo allora andiamo in pianta piano terra stiamo nell'intersezione dei muri quindi qui anche qui abbiamo un qualcosa questo è il muro che vediamo prima che gli dobbiamo anche questo mostra solo nel piano ospite ok e poi dopo dopo lo modifichiamo bene andiamo a prendere questo muro che è il muro che ci interessa andiamo a vedere le proprietà di questo muro questo parte da uno e arriva a parte da più uno e arriva a più uno questo lo dobbiamo fa partire da zero ok poi andando in 3D possiamo tranquillamente questo muro qui se riusciamo a selezionarlo conviene selezionarlo dal suo piano ospite che è il piano terra un attimo possiamo tranquillamente cancellarlo prendere l'altro che c'è andare sulle impostazioni e dirgli che deve stare sopra di uno sopra di uno e in questo modo eccolo qua in questo modo sicuramente andiamo in 3D dovrebbe essere la visualizzazione corretta eccolo qua vediamolo sotto qui non c'è nessun problema qui dobbiamo probabilmente controllare un attimo tutti gli spazi del nostro progetto qui va bene ok questo muro e questo qui adesso lo accorciamo andiamo sul piano terra prendiamo questo muro qui e questo muro qui e gli diciamo che questo spigolo deve arrivare qua adesso se andiamo in 3D dovremo trovare la visualizzazione qui corretta vediamo il tempo piano terra questo muro questo muro vanno bene quest'altro pure portiamo magari questo dietro ecco qui l'intersezione giusta vediamo che è successo a questo muro qui questo muro qui è un muro che è quello che abbiamo fatto per chiudere i due l'abbiamo messo al piano terra e conviene questo muro che noi lo allunghiamo fino in fondo perché ecco qua per quale motivo perché se andiamo nel 3D eccolo qua questo è il muro che ci interessa vedete l'intersezione è stata superata perché qui ci sarà sicuramente una dovremo fare una scala quindi poi andare a sistemare questa parte esterna quindi diciamo che in questo modo abbiamo fatto il tutto fermo restando questo muro qui che non si capisce per quale motivo continua ad essere largo dalla parte del piano primo certo dobbiamo andare al piano primo piano primo eccolo qua questo muro da qui lo dobbiamo mettere qua se adesso andiamo sul 3D completo dovrebbe tornare a posto ecco finalmente è tornato a posto andiamo a controllare nel piano primo la linea di taglio perché c'è qualche problema documento piano di taglio della pianta 2 e 10 ecco qua adesso va tutto bene ecco qui l'unico problema che abbiamo è per questo muretto qui che va un attimino andrebbe un attimino modificato conviene tranquillamente cancellare questo e riportare il solaio a questo punto qua senza nessun problema in questo modo la visualizzazione è corretta andiamo a vedere nel 3D quello che è successo qua eccolo qua mi sembra che va bene non va bene perché certo abbiamo cancellato il parapetto sotto allora in questi casi quando c'è un errore di questo genere conviene tranquillamente o andare a riprendere questo muretto qui e dirgli che deve scendere sotto in questo caso è 2 metri in modo da poter no abbiamo sbagliato e questo muretto qui gli dobbiamo dire che la quota di progetto è 3 metri e 10 quindi un metro più basso eccolo qua e quindi abbiamo diciamo così aggiustato questa incongruenza e niente poi dobbiamo andare a vedere insomma se c'è qualche cosa da modificare in giro però insomma in questo modo abbiamo il progetto corretto ecco anche qui c'è un problema con questo muro che possiamo andare a andiamo nel piano primo vediamo come possiamo fare eccolo qua e questo dietro qui conviene prendere questo muro e magari spostarlo completamente sopra l'altro oppure metterlo nella mezzeria adesso non è importante adesso andiamo nel 3d vediamo se abbiamo eccolo qua siamo riusciti a fare questo allineamento in questo modo va bene tutte le sovrapposizioni dobbiamo un attimino controllarle verificarle però ecco in questo modo noi abbiamo che il nostro edificio è corretto in realtà manca questo parapetto qui che c'era sfuggito riandiamo sul piano ter sul piano primo questo parapetto conviene quindi al piano primo che andiamo a fare un nuovo parapetto quindi prendiamo un parapetto vediamo se possiamo lavorare su questo allora questo è un parapetto alto un metro che parte da zero gli dobbiamo dire che deve partire da un metro sotto quindi 2 e 10 esatto con un metro sotto in questo modo dovrebbe andare bene vediamo che succede andiamo sul 3D assolutamente no era il contrario dobbiamo andare a selezionare questo e dirgli che deve partire da 4 e 10 ok e che è alto un metro e un metro è alto dallo zero di progetto parte a 4 e 10 quindi è zero e alto un metro vediamo se in questo modo ci abbiamo azzeccato sì l'abbiamo posizionato al punto giusto però lo dobbiamo alzare di un altro metro per cui andiamo qui e gli diciamo che l'altezza sarà di 2 metri essendo un muro non collegato eccolo qua in questo modo abbiamo fatto correttamente il parapetto spesso come avete visto conviene lavorare direttamente in tre dimensioni perché ci abbiamo un pochino più il polso della situazione ultima cosa che possiamo fare è ritornare al piano terra e lavorare un attimo sui marker di sezione i marker di sezione ecco lì qua abbiamo detto che questo c'è va tutto bene adesso noi qui abbiamo una sezione lunga in questo modo che diciamo può andare bene magari è pure troppo lunga per cui andiamo a cliccare qui prendiamo questa opzione e la portiamo ad una larghezza diciamo così ragionevole dopo di che abbiamo vedete questo ma il marker del prospetto che è questo che adesso sta completamente diciamo così fuori posto allora clicchiamo sul punto centrale prendiamo l'opzione muovi e lo portiamo qua ugualmente quest'altro lo centriamo un po' dopo magari lo modificheremo successivamente li dobbiamo poi allungare uno qui allunghiamo due stessa cosa sotto possiamo allungarlo direttamente uno e due magari questo lo avviciniamo ecco qua in questo modo abbiamo impostato correttamente i prospetti abbiamo due sezioni sulle scale ecco dobbiamo modificare le scale questo ci aiuta molto e abbiamo anche una sezione longitudinale andiamo a vedere che succede sulle scale quindi la sezione 2 andiamo a vedere la sezione 2 vedete la sezione 2 la scala era stata disegnata così per superare un dislivello di 3 metri adesso il dislivello è diventato di 4 metri per cui dobbiamo andare a modificare la scala ecco qua vedete questa scala parte diciamo così ad una quota che non va bene deve partire da terra allora ritorniamo sul piano interrato e andiamo a lavorare sulla scala chiaramente questo lavoro lo dovremmo fare tre volte ora selezioniamo la scala la scala non il parapetto eccola qua e gli diciamo che questa scala invece di partire da un metro e arrivare al piano terra più un metro dovrà partire da zero occhio al numero delle pedate vedete se io faccio questa operazione le pedate sono diventate 22 se clicco su ok vedete la scala è diventata in questo modo che per noi non va bene per quale motivo se noi adesso andiamo al piano terra avremo vedete questa rampa di scale che arriva in mezzo al soggiorno e questo non va bene allora noi magari vogliamo far continuare lungo il lungo il muro per cui andiamo scusate sempre a selezionare prendiamo questo spigolo e gli diciamo questa opzione ecco questo spigolo portamelo qua ok il parapetto l'ha modificato in automatico eccolo qua perché era collegato alla scala quindi andiamo a fare la stessa operazione per quest'altra e2 selezioniamo la scala gli diciamo di non partire da 1 ma di partire da 0 ok perfetto prendiamo questo e lo andiamo a posizionare qua stessa cosa per quest'altra scala il parapetto va di conseguenza l'andiamo a prendere gli diciamo che deve partire da 0 e automaticamente la scala viene ricalcolata andiamo da qui e gli diciamo di andare qua adesso manca ancora una cosa ce ne accorgeremo adesso dalla sezione un attimo dalla sezione vedrete che succede a questa scala questa scala partendo diciamo così più in basso e finendo più lontano non va più bene il buco nel solaio perché il solaio deve avere la possibilità del passaggio allora andiamo al piano terra che è il piano interessato se noi andiamo a selezionare il solaio vedete troviamo questa situazione allora clicchiamo sul bordo prendiamo l'opzione offset e la portiamo all'ultimo gradino stessa cosa da quest'altra parte bordo ultimo gradino ecco adesso se andiamo in sezione l'opera dovrebbe essere completa diamogli il tempo di rigenerare il disegno il solaio si accorcerà e permetterà il passaggio il passaggio della scala e fatta questa operazione un attimo che ancora eccolo qua benissimo fatta questa operazione mi sembra adesso va sempre un attimo ricontrollato mi sembra che tutto sia diciamo così completo adesso per andare avanti la prossima volta nella nostra esercitazione dovremo un pochino lavorare sulla sistemazione esterna intanto dovremo mettere il terreno mettere queste scalette qualche divisorio e qualche altra operazione comunque per adesso abbiamo duplicato diciamo così correttamente le nostre tre case occhio sempre soprattutto ai punti di intersezione magari conviene anche fare una sezione all'interno per vedere se ci sono problemi grazie a tutti